Buongiorno mattina, bentrovati, se avete piacere di restare con noi vi condurremo tra poco in piazza San Pietro per seguire insieme l'udienza generale del mercoledì con Papa Francesco. Ma avete già visto un nostro studio molto ricco, vivo di tantissimi ragazzi che hanno fatto un'esperienza molto molto speciale. Buongiorno, benvenuti, ciao grazie per essere con noi. E' stato un'estate speciale perché se tra pochi giorni suonerà per loro la campanella e si torna sui banchi di scuola, ahimè succede anche questo ma servirà, è importante studiare. Di certo sono stati ricaricati da una bella esperienza davvero unica che hanno fatto dall'altra parte del mondo. In migliaia, decine di migliaia per la verità, mille di loro italiani l'esperienza del Giamburì. Guardate con noi. c'è la zona che è super questa l'esercita della Zettola central. In 35.000 scout da tutto il mondo si sono ritrovati in Giappone. Un'esperienza penso davvero molto particolare, unica, un'esperienza di fraternità, di condivisione, di incontro. Francesco Scoppola, capo scout, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Che cos'è il Giamburi per chi non lo conoscesse? Il Giamburi è il raduno mondiale degli scout, che si tiene una volta ogni quattro anni, quindi il raduno che vede uniti tutti gli scoutismi di tutto il mondo. Anche di religioni diverse? Anche di religioni diverse, assolutamente. In Italia abbiamo partecipato con un contingente federale, di cui fanno parte due associazioni, la GESCI, che è l'associazione guide scout cattolici italiani, e il CENJ, che è il corpo degli esploratori laici italiani. Allora, voglio prima presentarvi Livia, ciao, Filippo, e poi il microfono. Matteo. Matteo. Edoardo. Edoardo, buongiorno. Valerio. Valerio. Chiara. Virginie. Virginie. Beatrice. Beatrice. Allora, che cosa vi aspettavate di trovare dall'altra parte del mondo? Allora, voi eravate praticamente a sud di Tokyo, tanto per dare un'idea insomma di qual è il punto del Giappone, anche perché il Giamburi precedente era stato in Svezia, quindi una situazione molto simile. E invece, le attese quali erano? Le attese erano veramente, cioè, non c'era nulla, diciamo, di chiaro, a parte il fatto che ci sarebbero stati scout da tutto il mondo, non si aveva un'idea concreta di quello che si sarebbe andato a fare. Però, cioè, non si poteva veramente controllare l'emozione, eravamo tutti veramente molto eccitati da questa esperienza. E quando l'avete detto a casa, papà, io vado in Giappone, come è andata? Che ti hanno detto? Il mio padre ha detto, provaci, vediamo se ti prendono, poi è andata bene, meno male. Siete, l'impatto una volta arrivati? Una volta arrivati è stato stupendo, è stata un'emozione che secondo me è una delle migliori del mondo, vedere tantissime persone con tutti i reali più o meno uguali, di avere la pace nel mondo, di essere amici, di essere fratelli, insomma. Filippo, tu quanti anni hai? 15. 15. E per te, ho capito bene, è l'esperienza più bella che hai fatto fino adesso? Sì, finora sì, è stata stupendo. Sì, può essere. Voi parlate ovviamente tutti giapponesi, immagino. Ovviamente. Senti, il farvi anche capire, quando insomma si tratta di una realtà completamente differente dalla nostra, è forse affascinante proprio per questo. Come è andata proprio nelle piccole cose? Allora, noi abbiamo fatto tre giorni di home hospitality, quindi siamo stati tre giorni... A casa proprio, di famiglie giapponesi? Siamo stati giapponesi proprio per rapportarci con la loro cultura e all'inizio è stato un po' traumatica come cosa perché era tutto molto differente dalle piccole cose come togliersi le scarpe e stare con le ciabattine in casa fino al fatto di sedersi per terra per mangiare sul tavolino basso, quindi era tutto molto differente dalla nostra cultura, ma alla fine siamo riusciti ad apprezzarlo e anche a rapportarci con questa cultura. Chi ti ha ospitato? Allora, io sono stato ospitato da una famiglia che vive a Kobe, una piccola città nel sud del Giappone. E' conosciuta anche per la carne, è conosciuta. Tu invece? Io sono stato ospitato da una famiglia a Nara, nella periferia che si chiama Ikoma City, dove appunto mi hanno ospitato per tre giorni e ho potuto anche vedere costumi e usanze dei giapponesi. Allora, e senti, come ti hanno accolto il primo impatto quando insomma si è trovato un po' alla porta? Mi è sembrato molto timido da parte loro, ma anche da parte mia, ovviamente. Mi hanno subito offerto cose che pensavano, magari di alcuni stereotipi italiani, ad esempio, vuoi mangiare un po', vuoi fare... Insomma mi hanno chiesto un sacco di cose e mi hanno offerto... Tipo un po' di pizza? Esatto, però comunque il primo impatto per me è stato molto importante. Dai, siamo curiosi e penso anche chi ci segua a casa di vedervi un po' all'opera di questo incontro, una giornata in Giappone. Grazie a tutti. Cosa accadeva con quegli spaghetti? Che cos'è? Venivano messi questa sorta di spaghetti, chiamati volgarmente spaghetti, ma si chiamano noodles, nella cultura giapponese, che venivano fatti scivolare lungo questa sorta di percorso di bambù e l'attività era prenderli con le bacchette al volo e ovviamente mangiarli, insomma. Venti, cosa vi ha colpito di più proprio dell'impatto dell'incontro con queste famiglie che hanno deciso di aprire le loro porte a persone che vivono dall'altra parte del mondo? Allora, innanzitutto la gentilezza e l'accoglienza, ecco, sono stati indubbiamente proprio la colorosità e tutto quanto, insomma, l'ambiente che hanno cercato di creare attorno a noi, ci hanno fatto veramente sentire a nostro agio. Allo stesso modo, quindi, ci hanno fatto assaggiare, come hanno già detto, tante pietanze loro tipiche, per esempio. Ti sono piaciute? Cos'è assaggiato? Tantissimo. Io ho assaggiato, per esempio, mi hanno portato addirittura a mangiare la carne di cove, carne di cove, che è molto pregiata, appunto. Inoltre, poi, noi anche però abbiamo cercato di lasciargli qualcosa. Io, per esempio, insieme al mio compagno, perché eravamo in coppia, abbiamo voluto suonargli, dato che amo la chitarra, abbiamo voluto suonare qualche canzone tipica italiana, anche cucinargli un piatto, qualcosa che, insomma, gli facesse sentire un po' come l'italianità, insomma, come... Eh, dello star bene anche insieme. Assolutamente. Fra l'altro sono giorni in cui si parla tantissimo nel nostro vecchio continente in Europa, sul tema dell'immigrazione, e vedere questi ragazzi così accolti dall'altra parte del mondo, insomma, qualcosa che scuote un pochino, no, l'animo. E credo che cambia anche il modo di vedere le cose e il mondo da questa prospettiva. Sono esperienze che fanno crescere. Sì, sì, sono esperienze che sicuramente non rimangono isolate al momento dell'esperienza, ma creano quella consapevolezza e anche quella proprio predisposizione all'incontro e alla condivisione che oggi più che mai sono, insomma, importanti. Voi siete abituati a fare vita da campo. Dopo questi tre giorni, ricordiamo che è iniziato proprio dal 28 luglio scorso sino all'8 agosto, il vero e proprio Jambori, e avete fatto vita da campo. Normalmente un campo, in quanti siete, eh, quando li fate tra voi? Beh, dipende dal gruppo, di solito una trentina. Una trentina massimo. Allora, in Giappone, al Jambori, eravate 35.000. Ecco le immagini della vita da campo. Allora, in Giappone, al Jambori, eravate 35.000. Allora, in Giappone, al Jambori, eravate 35.000. Allora, in Giappone, al Jambori. Grazie a tutti. 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 Il mondo in piccolo. Il mondo in piccolo e gli incontri più particolari che avete fatto perché io immagino anche perché scout da tutto il mondo significa proprio incontrare il mondo insieme e viverci. Quindi insomma di incontri speciali ne avete fatti. Sì perché anche ovviamente lo scoutismo nel mondo si vede in modo diverso. Per esempio noi in Italia andiamo spesso nel campo vestiti indiviso almeno in uniforme da campo. Invece vedete quelli in ciabatte, in costume, quindi un po' così. E anche le religioni diverse hanno, per esempio vicino al nostro campo c'era un campo di indonesiane che sono musulmane quindi tu le vedevi a 51 gradi al sole e all'ombra anche che non c'era la parte questo. Con il velo, con i pantaloni lunghi, la maglietta lunga, purette. Per regalare verso... Esatto, che comunque abbiamo visto, abbiamo fatto molte esperienze con loro perché c'erano accanto, ho visto come sono aperte anche, invece tu pensi alla loro religione, quindi i team è chiuso e invece li vedi che sono aperte subito, abbiamo giocato con loro, fatto giochi tipici. E' cambiato qualcosa anche nel modo di vedere? Voglio dire, magari è una domanda troppo complessa, però credo che anche ogni pregiudizio viene un po' cancellato da queste esperienze, da quando poi alla fine ci si incontra davvero, le culture le si trovano proprio fianco a fianco. Ovvio perché comunque tu parti dai stereotipi ma trovarsi lì proprio faccia a faccia con culture diverse, modi di fare, tradizioni, comunque ti fa partecipe dello stesso e quindi comunque tutte le barriere mano mano si annientano e si vede proprio la condivisione scout, l'essere scout, essere una cosa sola. Ma sono preparatissimi questi ragazzi, le avete scelti proprio bene, non è vero, non è vero, siete bravi e lo siete tutti. Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi c'è tanto di cui parlare, tanto di cui chiedervi e raccontare anche a chi ci segue a casa, quindi no un caffè non ve lo posso offrire, no qualcosa da bere, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo e insieme andiamo in Piazza San Pietro per l'udienza del Papa, vi aspettiamo a tra pochissimo. Ben tornati nell'estate di bel tempo si spera, in diretta tra poco l'udienza di Papa Francesco insieme ad una rappresentanza di esploratori e guide che sono andati dall'altra parte del mondo per più di dieci giorni per un'esperienza che si chiama Jambory. Ma questa parola che cosa significa? Questa parola significa tecnicamente marmellata, nel senso gemme marmellata, esatto, una marmellata di culture, di colori, di scoutismi di vari paesi, un grande incontro, una grande marmellata di scout che si incontrano una volta ogni quattro anni. È stato il fondatore Baden Powell a introdurre questo appuntamento che dal 1920 si tiene ogni quattro anni, sotto un tema che quest'anno parlava dell'unità. Esatto, quest'anno il tema era Ua, uno spirito di unità, quindi l'unità dello stare insieme, i punti di partenza differenti che sono appunto le varie esperienze scout, le varie culture, le varie religioni, che si trovano però in uno spirito di unità e di armonia, cioè la condivisione del campo e di quei dieci giorni diventa l'unità del modo di fare scout in tutto il mondo. Qui con noi tanti amici della GESCI che hanno potuto vivere e convivere a proposito di questo principio di incontro e di unità con tante religioni diverse, dove c'è stato anche un campo che era proprio luogo di fede e di preghiera. Guardate con noi. Certo fa una certa impressione quando i grandi del mondo insomma è, cercano di unirsi, di incontrarsi e i piccoli, diciamo così, quantomeno di età, lo fanno e lo fanno con questa bella esperienza. Quante religioni diverse si sono viste praticamente pregare una fianco all'altra al Giambo? Tante, adesso il numero preciso non lo ricordo, però sicuramente erano tante, dagli ortodossi ai protestanti, ovviamente ai cattolici, agli anglicani, musulmani, esattamente, un grande incontro di religione. Vi era proprio un'area al campo dedicata alla presenza di fisicamente tende di ogni religione, dove i ragazzi potevano andare non solo a conoscere quale fosse quella cultura religiosa, ma a vivere anche una piccola attività, un piccolo momento che fosse tipico di quella cultura religiosa. Quindi un luogo fisico dove incontrarsi e dove comprendere. Quest'anno il Giambo è caduto anche in una data importante e storica, quella del 6 agosto del 1945. Si parla ovviamente dello scoppio della bomba atomica su Hiroshima e voi l'avete proprio vissuto e celebrato in Giappone. In che modo? Chi me lo dici? Allora, noi di reparto siamo andati il 4 agosto, quindi due giorni prima, al museo per celebrare questa esplosione della bomba atomica, per ricordarla più che per celebrarla. Non ci mancherebbe, anche perché sono passati i 70 anni esatti da quel giorno, e certo che viverlo lì penso che sia, intanto vediamo queste immagini storiche, è stato un forte impatto. Più che leggere sui libri di storia, guardare immagini, poi quando sei dentro al museo vedi le statue di cera che riproducono le persone dopo la bomba atomica, queste fotografie, questi oggetti che 10 secondi prima dell'esplosione erano usati e 10 secondi dopo erano distrutti, è veramente un'esplosione di emozioni che ti colpisce più profondamente di tutte le immagini che puoi vedere o immaginare. E a casa, quando siete tornati, che cosa avete raccontato? La prima cosa che ho raccontato di sicuro è stata comunque l'arrivo al campo del Gembori, che è stato qualcosa di bellissimo, anche perché noi di ogni reparto eravamo ognuno su un pullman, e chi arrivava prima e chi arrivava dopo eravamo comunque tutti quanti lì a vedere questa vista di una distesa immensa di tende. Immensa, vero? Di tende che occupava un'intera penisola. Ma i vostri genitori erano preoccupati? Assolutamente sì. Come riuscivate a sentirvi? Un po' per email perché i capi erano costantemente... Connessi? Connessi, assolutamente, perché loro insomma ne avevano la possibilità. E indubbiamente insomma i miei genitori erano molto preoccupati, soprattutto per l'andata e il ritorno con l'aereo, questo più o meno. Voi avete avuto anche la possibilità di incontrare Papa Francesco in un'udienza proprio con tutto il mondo degli scout. Che cosa vi ha lasciato quell'esperienza e quelle parole che il Papa vi ha consegnato? Beh, più dell'esperienza infatti, proprio di lui mentre parlava, più che altro l'attesa che abbiamo provato. Perché lui ha parlato dieci minuti ma noi siamo stati lì tutta la mattinata a relazionarsi con gli altri scout d'Italia che ci avevano raggiunti a Roma. Ed è stato davvero emozionante e anche fargli vedere l'affetto che proviamo per lui, anche lanciandogli i fazzolettoni, incontrandolo. Eravamo... gli abbiamo fatto vedere il nostro affetto. Il vostro affetto grandissimo. E è stato un modo anche per prepararvi a questa esperienza che ripeto avviene ogni quattro anni ed è un appuntamento davvero importantissimo. Vorrei sottolineare però un aspetto. Qual è la differenza che rende unico un po' questo di evento? Cioè non è un'esperienza di studio, non è una vacanza, ma che cosa è stato? Non è un'esperienza di studio, non è una vacanza, ma è proprio il momento dell'incontro. Cioè l'idea che tu non incontri solitamente persone di tutti i continenti, di tutte le nazioni, di tutte le religioni, ma vivi quell'esperienza come incontro. Cioè il fare delle esperienze, effettivamente, concretamente, delle attività insieme, dei momenti di condivisione come può essere una cena o un'attività che raccontavano i ragazzi. Quindi il vivere un momento della giornata insieme a persone differenti dal punto di vista sociale, culturale, anche geografico, ci identifica nel tipo di relazione umana. Livia, a te cosa ha colpito di più di questi 13 giorni così intensi? Un po' tutto, ma soprattutto svegliarsi la mattina e vedere questa distesa di tende e sapere che accanto a me c'erano degli inglesi o dei belgi e avere dei giapponesi davanti. Cioè trovarsi la mattina con persone di tutto il mondo. E che cosa hai imparato da loro? Sicuramente più di quanto si può imparare in una vacanza studio oppure anche a scuola, perché in questo mondo io parlavo veramente con persone della mia età, parlavo di ciò che importava a loro, non un argomento di scuola. E quindi veramente tutto. Non c'era qualcosa in particolare, perché tu chiedivi qualcosa e loro ti rispondevano, comparavi anche l'esperienza scout. Si cresce anche come, voglio dire, anche responsabilità, no? A 15 anni fare un volo così importante, essere così lontani anche da casa, magari per alcuni essere il primo volo preso. E poi, insomma, incontrare così tante persone di culture diverse. Cosa si riporta una volta tornati a casa? Un'esperienza bellissima, anche secondo me un'emozione che tu passeggi per queste viette, queste strade del campo, ti fermi e inizi a parlare con una persona che per te è sconosciutissima, come se conoscessi da tempo. Perché inizi a parlare e ci si trovi in armonia, in sintonia. I vostri genitori una volta tornati a casa che cosa vi hanno detto? I miei erano molto preoccupati, perché comunque la distanza non è un viaggio normale, che stai comunque vicino a casa, ma stai dall'altra parte del mondo con persone sconosciute. Però hanno subito visto che io ero tornata contenta e che è diversa, è cambiata, perché questa emozione, questa avventura mi ha cambiato dentro. E allora si sono subito sollevati, hanno visto che comunque non è una cosa che si può fare tutti i giorni. Allora, penso che in Valigia avete riportato a casa un'esperienza, soprattutto nel cuore, che vi ha fatto crescere, probabilmente cambiare anche il vostro sguardo sul mondo. Io vi ringrazio tantissimo perché, come avete visto, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso in Piazza San Pietro e l'eco delle diverse lingue che si trovano in quella piazza le sentiamo anche noi. Quindi grazie a Francesco Scoppola e grazie di cuore a tutti voi. Guido esploratore, mi raccomando, continuate così e un saluto anche a casa. Grazie davvero. E allora, linea adesso al Centro Televisivo Vaticano, mentre questo sguardo ecco qui sul nostro studio, con il quale vi salutiamo, ma ci rivedremo subito dopo. Buona giornata, linea.